La discussione, il voto e le modalità con Per cui questo voto è stato espresso, hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al governo e l'assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere. La fine del governo Draghi spiegata facile facile. Il Movimento 5 Stelle fa delle proposte su temi sociali importantissimi. Salvare e rilanciare il reddito di cittadinanza, attivare il salario minimo e riattivare anche il superbono 110%. La risposta di Draghi? Scapparsene a gambe levate. Il Movimento 5 Stelle in profonda crisi di consenso ha abbandonato la maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Noi non abbiamo nessuna, nessuna, nessuna responsabilità di quello che è successo. Non c'è tempo da perdere e i problemi delle famiglie a casa sono bollette, luce, gas, mutui, corrate che aumentano e riforme non fatte per i no dei PD e i 5 Stelle. Quando Conte e Salvini vi verranno a dire in campagna elettorale che vogliono affrontare il caro benzina, il caro energia, il caro bollette, ditegli che hanno buttato giù quel governo che stava per fare il decreto e hanno deciso di buttarlo giù per opportunismo elettorale di sondaggi. A tutti quelli che dicono i politici sono tutti uguali rispondo no, noi abbiamo portato Draghi, Conte, Salvini e Berlusconi l'hanno mandato a casa. Io penso che saremo in grado di costruire un'alleanza fatta di tanti soggetti politici. Conte ci può stare o no in questa alleanza? La mia valutazione, la mia impressione è che sia molto complicato, molto complicato immaginare che coincidano di nuovo le nostre strade dopo una scelta, per me veramente sbagliata. Io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre perché gli occhi di tigre sono il modo col quale noi che siamo consapevoli di essere dalla parte della regione in questo momento e sarà da come gli italiani ci vedranno in azione che le nostre idee, le nostre valutazioni, le nostre proposte diventeranno vincenti oppure no. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, dunque si voterà il 25 settembre. Avete sentito il Presidente della Repubblica, Mattarella, dare l'annuncio dello scioglimento delle Camere, insomma prendendo atto che non c'era più una maggioranza per continuare con l'attuale governo. Il Presidente Mattarella era scuro in volto ieri nel fare questo annuncio stringato, ha sottolineato che ovviamente è un momento molto complicato e che il governo pur si è in carica per il cosiddetto disbrigo degli affari correnti, insomma ha un perimetro un po' più ampio per affrontare soprattutto, per proseguire l'azione del PNRR, per affrontare la crisi sociale ed economica, quindi con le misure che si devono mettere in campo. C'è ovviamente ancora il conflitto in Ucraina e quindi eventuali decisioni in questo senso e per fronteggiare la pandemia nel caso ci fosse bisogno di ulteriori misure. Mattarella ha detto anche un'altra cosa rivolgendosi pur senza nominarli ai partiti, è chiaro che adesso è scattata la campagna elettorale però dice Mattarella date un contributo costruttivo nell'interesse superiore del Paese. E a proposito di campagna elettorale che è già cominciata, è una campagna elettorale inedita, balneare in piena estate con i partiti che devono fare una corsa contro il tempo, entro Ferragosto devono essere consegnati i simboli e mi pare entro il 22 le liste, le firme e i nominativi per i collegi uninominali. Insomma quindi c'è un lavoro frenetico da fare. Poi restano i veleni che hanno portato alla caduta shock, diciamola così, del governo Draghi. Se il centrodestra affila le armi per il voto ha dei problemi interni, primo fra tutti diciamo la futura leadership, il centrosinistra insomma sta cercando di capire quale sarà il campo, quali saranno le alleanze. Letta lo ha detto chiaramente ieri, sembra archiviata l'intesa col Movimento 5 Stelle, più che di campo largo si ragiona di una sorta di area Draghi, Conte ha replicato, noi siamo progressisti, vedremo poi cosa deciderà il Partito Democratico. In tutto questo, come sapete certamente, c'è la decisione ieri della Banca Centrale Europea che come ha annunciato ha rialzato i tassi di interesse di mezzo punto, quindi più del previsto, e ha varato il cosiddetto scudo anti-spread, che però potrà essere utilizzato dai paesi, diciamo così, più virtuosi, cioè ha delle stringenti condizionalità. Dobbiamo parlare di molte cose, intanto saluto e ringrazio il senatore Andrea Cangini, posso dire ex Forza Italia, a tutti gli effetti c'è una sorta di terremoto in Forza Italia, ne parleremo, anche questo strascico di quello che è successo l'altro giorno in Senato. Bentornato al senatore Lucio Malandi, Fratelli d'Italia, che diciamo anche lui proveniva da Forza Italia, ma si parla di diverso tempo fa. Saluto e ringrazio Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione e docente all'Università Mercatorum. Bentornato Massimiliano. Grazie, buongiorno. Grazie, tra poco con noi ci sarà anche Federica Fantozzi dell'Huffington Post. Intanto partiamo da un riferimento di cronaca stretta. L'altro giorno, durante questa giornata così drammatica e concitata al Senato, la ministra Gelmini, in seguito alla decisione di Forza Italia, ha annunciato il suo addio al partito, l'ha fatto in seguito il senatore Cangini, poi sono arrivate le dimissioni di Brunetta, che dice non sono io che lascio Forza Italia, è Forza Italia che ha tradito le sue origini, i suoi valori, e anche la ministra Carfagna, insomma, praticamente ha quasi dato l'addio al suo partito. Senatore Cangini, perché questa decisione? Lei ha votato per la fiducia, insomma. Per questa esatta ragione. Insomma, io credo che le istituzioni vengano prima dei partiti e credo che la politica sia una cosa seria, che presupponga una parola e un senso di responsabilità rispetto all'interesse generale. Forza Italia, così come la Lega, fino esattamente al giorno prima di sfiduciarlo, ha sostenuto Forza Italia più della Lega, che era merito di Forza Italia se Draghi si era insediato, che Draghi era il miglior presidente possibile, in una condizione così complessa per il Paese, e in aula Draghi ha fatto le concessioni importanti, che erano richieste di Forza Italia, a taglio del cuneo fiscale, più soldi ai lavoratori, sostegno al reddito alle famiglie, soldi alle famiglie disagiate, revisione del dissennato reddito di cittadinanza, e via elencando. Un'unica condizione Forza Italia aveva posto, secondo me sbagliando, perché le abbiamo nobilitate, invece sono dei cialtroni, che i grillini uscissero dalla maggioranza. I grillini hanno detto che non avrebbero votato la fiducia sulla mozione pro Draghi, e noi non abbiamo votato la fiducia per Draghi, una cosa insensata. Dal tuo anzi, perché insomma ci conosciamo da tempo con Andrea Cangini, Andrea Cangini poi di fatto è un giornalista, non so se è prestato alla politica, non so cosa entrava, regalato, cosa vede nel suo futuro. Quello che ti voglio chiedere però, perché poi sappiamo, oggi Berlusconi parla su molti giornali, interviste, colloqui e via dicendo, e dice io non ho responsabilità, non abbiamo responsabilità nella caduta di Draghi, dice, aggiunge anche qualche cosa, Draghi probabilmente questo voleva perché era un po' stanco, ma insomma al di là delle indiscrezioni. Ma quello che volevo chiederti, se non si fosse messa ai voti la mozione Casini e si fosse messa ai voti la mozione congiunta Forza Italia-Lega, no? Che era quella diciamo del centro-destra di governo. Secondo te le cose sarebbero andate diversamente? Guarda, io purtroppo ho capito, forse tardi, perché sono uno che spera che le cose abbiano un senso e assumano una qualità, diciamo. Io temo che la decisione di rompere fosse già stata presa. Draghi poteva dire o fare qualsiasi cosa. È stato fatto un calcolo elettorale non diverso purtroppo, lei non ha idea tu, non ha idea di quanto mi addolori a metterlo e constatarlo, non diverso dal calcolo fatto alla maniera del Ponte e del Movimento 5 Stelle. Ma si sono fatti scudo, diciamo, sul Movimento 5 Stelle la decisione di Conte, il centro-destra ha approfittato di questo. Ma certo, ma ribadisco, insomma, noi abbiamo fino al giorno prima detto che se escono i grillini noi rimaniamo al governo, l'abbiamo detto, l'ha detto Tagliani, l'hanno detto tutti. Ma Draghi l'avrebbe potuto accettare? Draghi l'avrebbe accettato, ci sarebbe stato un voto di fiducia su questo, non poteva non accettarlo. Il problema vero è che il centro-destra, io presumo che vinca queste elezioni, ma le vincerà in un contesto di rovine. Questa crisi ha dei costi, dei costi altissimi, che già cominciano ad avere i loro effetti, che verranno pagati dai soliti, che già stanno pagando, dai scelti sociali più deboli. Tra otto mesi il centro-destra, le elezioni, le avrebbe vinte, secondo me. Se si fosse dato una credibilità di governo che ad oggi non ha, ma presumo che avrebbero lavorato in questo senso, ma soprattutto in un paese parzialmente risanato, in un quadro stabile, di fiducia internazionale consolidata. Aver voluto far precipitare la situazione è inaccettabile. Un'altra cosa che vi chiedo, secondo te, Forza Italia, Berlusconi ovviamente oggi lo smentisce, anzi replica in tutte le salse a questa narrazione, Forza Italia è completamente schiacciata sulle posizioni della Lega? Guarda, mi duole dirlo, ma è nei fatti del resto. Io ero l'unico, sin dall'inizio, insomma io sono un po' all'antica, per me le istituzioni sono importanti. Visto come Salvini ha svolto la propria funzione di vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni, sono cresciuto alla scuola di consiglio, e il ministro degli interni lo considero una cosa diversa da tutto il resto. Ho capito, quell'uomo non ha senso dello Stato, non ha capacità politica, non sarebbe mai stato il leader di fatto della coalizione. E l'ho sempre detto, l'ho detto con forza alle riunioni a porte chiuse del partito, l'ho detto con maggior diplomazia in aula e sui giornali. Chiarà in grande simpatia Salvini. La presidenza è in atto da quattro anni, questa è un'accelerazione definitiva purtroppo. Indubbiamente ho fallito, perché il mio obiettivo, quando io ho lasciato, Berlusconi dice, ingrati eccetera, Berlusconi sa e ricorda che lui fece un appello alla società civile prima della scorsa campagna elettorale, a quell'appello risposi forse solo io, e lasciai la direzione di un giornale che andava benissimo, che dirigevo con grande soddisfazione, piacere e passione. E lo feci per passione politica, convinto di poter collaborare alla costruzione di un centrodestra di governo. Fallimento totale. Centrodestra non ha cultura, capacità e coesione di governo. Tornerai a fare giornalista? Tornerai a fare giornalista al tempo pieno? Questo non lo so, ma è l'ultimo, ti giuro, è l'ultimo dei miei problemi. Adesso passi al gruppo misto? Adesso sono in pace con la mia coscienza, ho doverosamente, dopo averlo annunciato a voce, perché insomma i rapporti umani per me contano, a Tajani, ho cercato di parlare con Berlusconi, non mi è stato passato, ma del resto è successo anche a Draghi e a tanti altri. e ho lasciato il gruppo di Forza Italia e passo al gruppo misto secondo prassi. Hai sentito la Gelmini, Brunetta, la Gaffagna? Dopo. Mi siete sentiti? Non è credibile, ma l'unica persona che ho chiamato prima di fare il discorso che ho fatto in aula, confermando per la cinquantasesima volta, i miei colleghi di partito l'avano fatto cinquantacinque volte prima di me, la filuccia del governo Draghi, l'unica persona che ho chiamato è stata Berlusconi, che non mi ha risposto. Che non ti ha risposto. Allora, dobbiamo quasi andare in pubblicità, intanto vorrei una prima riflessione da Federica Fantozzi. Dicevamo, adesso abbiamo la data delle elezioni anticipate, di qualche mese rispetto alla scadenza naturale. Sappiamo che c'è un gran lavoro tra gli schieramenti, negli schieramenti, nei partiti. E diciamo che con la giornata di ieri si è conclusa tutta la fase di cose a cui cercavamo risposte, le abbiamo avute. Intanto ti chiedo una prima riflessione, poi entriamo nel dettaglio di tante cose di cui dobbiamo occuparci oggi. Ma è una prima riflessione in generale, è un tema enorme, nel senso che quello che abbiamo visto è una crisi abbastanza surreale, una crisi innescata da un partito, 5 Stelle, che però non voleva innescarla, perché è chiaro che gli è sfuggita di mano, che l'ha regalata a un altro partito, che è la Lega, che invece ci ragionava da tempo, e a cui si è unito un altro partito, Forza Italia, che è nei fatti, è vero, su questa ragione del senatore Cangini, e che comunque abbia seguito la linea della Lega. Insomma, oggi tutte le interviste di Berlusconi, non voglio dire siano un'escusazione non petita, però mi sembrano molto difensive sulla strategia e molto poi offensive nei modi, perché insomma sono molto dure con chi ha lasciato, riposino in pace, insomma per carità sono metafore politiche, ma sono molto entranti, ma anche con Draghi, insomma dire era stanco e alla BCE lavorava meno, insomma sono frasi che uno magari non si aspetta dal Berlusconi di un certo tipo. Dall'altra parte c'è la fine del campo largo, ieri Letta l'ha certificato, ma poi nei fatti sarà più difficile, perché domenica ci sono le primarie in Sicilia, vediamo che succede. Anche lì ci sono molti attriti, tra il PD nazionale e il PD siciliano. C'è il Lazio, dove insomma non sarà facile, e poi ultimo elemento, questa ipotetica agenda Draghi, questo fronte repubblicano. E questo adesso ci arriviamo, perché questo è molto importante. Insomma c'è un terremoto per gli italiani e per la politica. Allora vado in pubblicità, poi ovviamente sentiamo subito sia il senatore Malan, sia Massimiliano Palarari, e vi facciamo sentire anche dopo in maniera un po' più ampia quanto ha detto a proposito del campo del centro-sinistra Letta, ieri sera proprio qui da noi sulla 7 a Inonda. Tra poco. Allora, adesso, a parte i tormenti di Forza Italia e del senatore Cangini, che quindi hanno il nostro massimo rispetto, vado da Lucio Malan, perché voi siete stati fin dall'inizio fieramente all'opposizione, siete diciamo, come Fratelli d'Italia, il partito che più ripetutamente ha chiesto di andare al voto, insomma, criticando fortemente questo governo, pur se per esempio riguardo alle iniziative per il conflitto in Ucraina, per esempio l'invio di armi, l'avete appoggiato convintamente. Allora, intanto le voglio fare una domanda, perché adesso ci occuperemo poi dei problemi del centro-sinistra, parliamo di quelli del centro-destra, no? È vero che siete apparite perlomeno più coesi in vista di questo voto, c'è un problema però ancora di futura leadership, no? Tagliani, mi pare, ieri ha usato parole, insomma, abbastanza chiare su il discorso, insomma, che la leader in pectone sia Giorgia Meloni. Stamattina Berlusconi, in una delle tante interviste, dice, a proposito del leader della coalizione, dice che è una delle cose da decidere e rivela a Berlusconi che l'idea che sta emergendo è che il leader venga votato da un'assemblea degli eletti, e cioè non più, come si diceva prima, da chi prende più voti alle elezioni. Questa sembra una questione di secondo piano, ma invece di primissimo piano. Anche perché non lo so, adesso glielo chiedo, se andrà alle elezioni forse più di qualcuno farà sapere agli elettori chi è, dal suo punto di vista, il candidato premier. Voi che farete? Sì, allora io osservo che, in generale, se uno guarda in Europa, guarda le democrazie, il meccanismo è quello. O c'è un partito solo, che da solo tiene la maggioranza, oppure c'è una coalizione, che è il caso più frequente, e il... E questa, scusate, questa nostra legge elettorale poi costringe, diciamo, a coalizioni, diciamocelo francamente. Ma a volte ci sono le coalizioni dopo, no? Noi parlo di altri paesi europei, no? Non è quello che auspico in Italia, anche se è quello che è successo in questa legislatura. E nell'ambito della coalizione, anche quando sono coalizioni anomale, come in Germania, dove a lungo hanno governato il principale partito, che in Italia chiameremo di centrodestra, il principale partito di centrosinistra, chi decide, che cosa decide? Chi è il primo ministro, il capo del governo, il presidente del Consiglio, da noi? Gli elettori, attraverso il voto, quello che ha più voti, a volte pochissimi di più, è quello che ha il posto del presidente del Consiglio. Il presidente Berlusconi ha posto, leggo, che ha posto un... Cito quello che ha detto Berlusconi. Ha posto un altro meccanismo, sono cose che si studieranno. Certo che la base è quella, la base è quella che tra l'altro c'è sempre stata anche all'interno del centrodestra. Silvia Berlusconi ha il merito di averlo fondato, il centrodestra, ma volta per volta, le volte che è stato presidente del Consiglio, era perché il suo partito era di gran lunga, tra l'altro il primo della coalizione, la scorsa volta nel 2018, quando ci sono state le consultazioni unite del centrodestra, guidava la coalizione Matteo Salvini, perché la Lega nel 2018 ha ottenuto i più voti degli altri, per cui questo ci sembra meccanismo naturale. Dopodiché di questo si parlerà, soprattutto è importante parlare di programmi, perché questo è quello che poi bisogna presentare ai cittadini. Posso fare però una domanda, ma lei è sempre molto diretto. Quali sono, dal suo punto di vista, le questioni principali che vi dividono all'interno del centrodestra? Facciamo stare alle cose che vi uniscono, ma ci sono delle cose che vi dividono o no? Ma guardi, credo sono tutte cose che... Non abbiamo neanche bene idea di quale sarà l'altra coalizione, e non sono problemi che ci toccano, quantomeno direttamente. Ma non soltanto è più coeso, ma ha una storia di quasi 30 anni ormai il centrodestra. Per cui abbiamo visto, ci sono sensibilità diverse, ma io non vedo delle divisioni. Abbiamo avuto una divisione, una scelta di questo periodo che... Prima la Lega era il governo, poi adesso Lega e Forza Italia. Ma perché non c'era una maggioranza definita? Ma perché non c'era una maggioranza definita? No, perché vuol dire che non c'è una cultura politica in comune. È un po' più grave la situazione. E rilascia i suoi effetti nel tempo. Il problema è che in questa legislatura una maggioranza di centrodestra non c'era. Noi contiamo che con le elezioni, i sondaggi ci dicono questo, e in ogni caso lavoriamo per questo, che ci sia una maggioranza di centrodestra. E dunque non si vede perché. Posso chiederti, Massimiliano Panarari, ma dobbiamo parlare di centrodestra o di destra a questo punto? Questa è una domanda molto puntuale, assolutamente sì. È chiaro che a questo punto dobbiamo parlare al più di destracentro. Nel senso che un'ipotesi politica di centro è un'ipotesi che guardava all'agenda Draghi e che probabilmente, anche se l'effetto delle elezioni e la velocità con cui andremo a votare non sarà sicuramente favorevole da questo punto di vista, costituirà il punto di riferimento di un raggruppamento, di una coalizione di forze centriste. Ora, va notato sicuramente il fatto che Fratelli d'Italia ha avuto una sua linearità, nel senso che la richiesta di andare al voto da parte di Giorgia Meloni è stata insomma costante, continua e incessante. Cosa differente dal cosiddetto centrodestra di governo che appunto tale non è più, essendo fuoriuscito dal governo. Ed evidente anche, lo dicevano le parole del senatore Cangini, lo stanno evidenziando le fuoriuscite, che l'anima più liberale e moderata di quello che era il centrodestra è appunto pronta ad uscire o ha già compiuto dei passi in tal senso. Quindi quello che rimane è sostanzialmente un destracentro. Dopodiché destra è davvero prevalente dal punto di vista delle opzioni programmatiche, anche dal punto di vista della cultura politica e lo vedremo sempre di più. Lo è anche in quel tono generalmente populista che ha animato anche le ore scorse e che è stato davvero un redderazione, una resa dei conti tra la visione di Draghi, tra un'idea riformista di governo nelle sue sfumature e appunto un'idea populista che ancora una volta ha mostrato la sua propensione per la campagna elettorale. Lo si diceva prima, i leader populisti hanno una forte attenzione per i cambiamenti nei sondaggi, che considerano da molti punti di vista la Vox Populi, ma la sensazione è anche che il perdurare del governo Draghi, la permanenza di Draghi alla presidenza del Consiglio, oltre a realizzare una serie di riforme, alcune delle quali non erano in sintonia con l'agenda del destracentro, pensiamo alla questione delle liberalizzazioni, ai riflessi delle corporazioni che non a caso si sono attivate dai taxisti ai balneari e che hanno un forte ruolo e un forte ascendente sui leader di destra dal punto di vista dei bacini elettorali e che se continuava la navigazione del governo quell'innesco di trasformazione all'interno dei partiti populisti poteva andare avanti, ovvero potevano cambiare al loro interno una serie di cose, spostarsi degli equilibri e verosimilmente non avremmo avuto alla fine della navigazione del governo Draghi un salvinismo tanto forte, un berlusconismo molto più spostato a destra e ritornato ai toni populisti e avremmo avuto Fratelli d'Italia, che ripeto, rimane una forza di destra populista coerente, magari in una condizione ancora più marginale di quella con cui era entrato al governo il centrodestra, appunto all'ora di governo. No, scusa Massimiliano, perché tu mi hai dato lo spunto per fare una domanda subito ancora al senatore Malanna e poi vado da Federica Fantozzi. Quando si parla di sensibilità diverse o meno, Panarari ha citato due cose che erano state citate l'altro giorno da Draghi, di DL concorrenza, tutta la partita che riguardava i taxi, e poi ci sono anche i balneari. Ecco, sono due questioni su cui l'Europa, mi pare, senza grandi dubbi, ha detto dovete risolvere queste questioni, perché sono questioni anche cruciali per il PNRR. Voi andate al governo, no? Ammettiamo come legittimamente aspirate. Che cosa fate con due questioni come queste, visto che sono cruciali per le risorse del PNRR? Allora, io non penso che la questione balneare sia cruciale per le risorse del PNRR. PNRR, e osservo che i diversi altri paesi europei, allora, la gestione delle spiagge della Lituania, non credo che sia un problema, non certo per l'Italia, ma neanche per la Lituania, ma paesi come la Spagna, il Portogallo, la Grecia, che loro sì hanno una situazione simile alla nostra come coste, l'hanno risolta, la Spagna e il Portogallo, con un prolungamento indefinito quasi di decenni delle attuali concessioni, per cui sempre di Unione Europea parliamo, per cui non si vede perché si è voluto accelerare su questo, essere ultraliberali sulle concessioni balneari, che sono in gran parte delle gestioni familiari, sono aziende familiari, e invece tutt'altro che liberisti su cose come autostrade, altri aspetti di questo genere. Per cui non vedo problemi. Quanto il professore ha parlato diverse volte populisti, populisti, populisti. Allora, in democrazia si decide con il voto. Poi, quando un altro, un partito che non ti piace, prende più voti, prende tanti voti, lo definisci populista. Perché se sei tu che prendi tanti voti, tu sei una forza responsabile, eccetera, eccetera. Se gli altri prendono voti, allora sono populisti. Allora, io osservo che è difficile trovare qualcosa di più populista che dire che il popolo mi chiede di stare qua quando il popolo è rappresentato da 1500 sindaci su 7900 e manifestazione di 150 persone da una parte, 40 dall'altra. Allora, direi che la parola populista, io l'ho sentito, cercavo di capire a chi si riferisse. Populista semplicemente è quando non ti piace qualcuno e prende voti, è populista. Se prende pochi voti... Facciamo così, proprio brevissimo, un tweet parlare di replica. Ci appogliamo alla democrazia, al volere degli elettori, nell'interesse dell'Italia, nell'interesse della nazione. Non ci vedo niente di populista, mi sembra che invece sia responsabile. Sì, rapidissimamente. Il senatore sta, diciamo, offrendo una visione politica, naturalmente. Nel suo caso, populista coincide anche con popolare. Ed è vero, perché i voti che la sua forza politica prendono sono voti significativi, voti popolari, voti larghi. Però populista è una categoria politologica che descrive una cultura politica molto precisa, con tante sfumature, naturalmente. All'interno della quale c'è anche l'appello diretto al popolo e l'idea costante che la legittimità, l'unica fonte di legittimità passi appunto per il consenso popolare. Effettivamente facevo una riflessione su Draghi interessante. Nel senso che quando Draghi parlava di mobilitazione a suo favore offriva un'altra chiave che non è esattamente populista ma che all'interno della cultura populista è molto presente cioè quella della disintermediazione. Il fatto di fare ricorso direttamente al consenso dei cittadini. Quindi non c'è nessuna connotazione diciamo valoriale nel parlare di populista c'è una categoria lessicale politologica che è molto diffusa all'interno delle analisi. Poi naturalmente c'è chi la utilizza in una certa direzione. Questo dubbio ma vale anche per riformista vale per qualunque etichetta per l'appunto politica. Le parole si prestano sempre a interpretazioni sono sfuggenti. Anche la parola destra può essere declinata in tante maniere. Esiste una destra conservatrice, liberale, libertaria e realista perché il realismo per me è o dovrebbe essere la vera cifra della destra del centro forse della politica in generale esiste la destra demagogica quella che manca è la destra realista responsabile e liberale e come manca la sinistra responsabile perché la demagogia può essere di destra o di sinistra c'è molta demagogia anche a sinistra c'è molta demagogia anche nel PD per essere chiari. Il grande assente di questa fase politica ed è una tragedia nazionale perché questo ha conseguenze sulla governabilità tant'è che la politica ha abdicato a se stessa e ha chiamato Mario Draghi salvo poi dire ah però è troppo Mario Draghi non è abbastanza politico cacciamolo perché è una cosa abbastanza spregevole ma il vero problema è che non c'è una classe politica strutturata consapevole competente in grado di assumersi delle responsabilità e di dire al paese come stanno davvero le cose le cose sono complicate cioè tu dici di usare parole di verità in questo senso? Io dico che non si può semplificare tutto fino a banalizzarlo sempre a proprio vantaggio nessuno può fare promesse salvifica in questa fase nessuno neanche il padre eterno ma se Scendi comunque una campagna elettorale con promesse salvifiche ancora o no? Già ne vedo le tracce già vedo che da una parte si torna a parlare i flat tax dall'altra si promettono bonus ai pensionati la parola bonus andrebbe abolita non c'è più non è serio non è serio torna la sicurezza torna il coraggio torna a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese lo farà il prossimo ministro dell'interno voi che ne dite amici peraltro la contrapposizione tra Salvini e della Lamorgese dura da moltissimo tempo intanto ti faccio una domanda su questo tweet è una delle priorità degli italiani in questo momento ancora la questione dei migranti o no? che in verità continuano ad arrivare in grande numero in Italia magari ci sono altre questioni che oscurano queste notizie ma arrivano io ti risponderei di no ti risponderei che fa anche una certa impressione intesa come non negativa ma sicuramente come rilevante che Salvini usi gli stessi cavalli di battaglia di due o tre anni fa cioè non che queste cose non esistano la flat tax le partite IVA perché sono tutti temi importanti però è come se non recepesse che è completamente cambiato il contesto o comunque volesse concentrarsi su questi temi gli sbarchi la sicurezza sono temi che esistono però noi ci troveremo davanti a un attimo cioè tu che cosa vuoi dire? ci troveremo in una situazione eccezionale siamo in una situazione eccezionale c'è la guerra ci sarà la pandemia cioè io troverei più concreto che Salvini dicesse a settembre che cosa è cambiato se vuole parlare diciamo la reazione nelle scuole l'abbiamo fatta abbiamo fatto la reazione no abbiamo cambiato il trasporto pubblico no che cosa facciamo a settembre il problema delle armi diceva il senatore Malan qualche crepa c'è nel centro-destra per esempio c'è l'Ucraina Draghi e anche Mattarella Mattarella ha detto tra le priorità la guerra della Russia contro l'Ucraina assolutamente questi sono i temi quindi gli sbarchi Salvini diciamo negli ultimi tempi non era così favorevole voi sì ma la Lega e Forza Italia hanno votato i provvedimenti del governo noi pur essendo l'opposizione l'abbiamo votato e andare a vedere una divisione in questo devo dire è un po' difficile no no diciamo c'è stata anche lì tu hai l'impressione che le posizioni di Salvini siano state apprezzate nella Nato ma questa è un'altra certo in politica conta cosa si vota conta cosa si vota perché potremmo osservare da membri del governo ora grandi atlantisti che quattro anni fa facevano dei discorsi anti-Nato non fuori dall'Antinato per cui tanto lo vedremo presto membri del governo tutto questo arriva in un batter baleno conta come si vota in politica cosa ha votato conta come si vota in politica Forza Italia e la Lega hanno votato i provvedimenti sulla questione Russia-Ucraina tra l'altro abbiamo votato anche noi la mozione iniziale poi hanno fatto cadere il governo che era considerato da Putin l'unico elemento di forza del fronte occidentale adesso andare a dire che Draghi che la caduta del governo tra l'ospirazione non penso che sia circolato un solo io osservo che quando è caduto il governo di Boris Johnson che adesso è lì provvisoriamente hanno esultato ho visto proprio una combinazione nella sequenza dell'agenzia c'era uno dopo l'altra la soddisfazione del Cremlino e la soddisfazione di Enrico Letta ma dire che Enrico Letta è Putiniano francamente io non lo direi allora torno tra un attimo riparto da Federico Vantozzi e sentiamo alcune delle cose dette da Enrico Letta ieri sera qui sulla 7 tra poco Berlusconi dice noi eravamo lì arrivato il bispo perché era stanco io penso che sia un tentativo disperato di Forza Italia di tentare di coprire le impronte digitali sull'arma del delitto io sono convinto che ieri sia stato un giorno negativo per l'Italia ma adesso c'è la chiarezza si sa chi ha detto di sì e si sa chi ha detto di no hanno buttato giù il governo ha cominciato il Movimento 5 Stelle e poi c'è stata la scelta della Lega e di Forza Italia e queste tre scelte hanno fatto cadere il governo Draghi hanno privato l'Italia di Mario Draghi e del suo governo credo che sia una scelta irresponsabile una scelta che è uso una parola forte ma ci credo di tradimento dell'Italia noi faremo una nostra proposta questa nostra proposta partirà dal Partito Democratico e ovviamente sarà una proposta basata su idee sulle nostre idee per rilanciare il Paese e per vincere le elezioni ma questa nostra proposta sarà aperta a coloro che credono che la scelta che ha fatto la destra che non è più il centro-destra perché diciamo la verità ormai Forza Italia si è consegnata a Salvini e Meloni cioè alle destre di questo Paese e noi siamo convinti che il nostro progetto possa convincere anche tante persone che hanno votato dall'altra parte Occhi di Tigre ha usato questa espressione per un motivo molto semplice che io credo profondamente che quello che è accaduto ieri cambi totalmente il modo con il quale gli elettori si purranno lo dico rispetto anche al discorso prima cambia più nel centro-destra che nel centro-destra il centro-destra è uno smottamento tre ministri che se ne vanno dal partito che hanno contribuito a fondare se noi coglieremo i temi giusti la sensibilità giusta e soprattutto se saremo coerenti fino in fondo io lo dico con grande franchezza quindi punta quello in solitudine lei dice no, non ho detto in solitudine ho detto noi faremo una proposta cercheremo di parlare con le altre forze politiche che hanno in questi giorni in queste settimane tenuto un atteggiamento che è l'atteggiamento di attenzione al paese sulla base delle proposte che faremo ci confronteremo con le altre io penso che saremo in grado di costruire un'alleanza fatta di tanti soggetti politici tanti soggetti politici fatti di gente che non vuole che l'Italia finisca con Salvini e Meloni va bene allora tutto questo per ovviamente discuterne chiedo a Federico Antozzi una cosa oggi c'è peraltro queste sono le parole del segretario Letta un altro dem di peso il ministro Franceschini ministro di missionari e beni culturali che oggi sul Corriere della Sera in un'intervista ripete con i 5 stelle è finita allora quello che volevo chiederti e questo visto che te ne sei occupata credo più sul lato calenda ma insomma parliamo di quel campo ma Draghi in qualche modo lo si diceva anche prima ha scompaginato diciamo gli schieramenti adesso si è formato un fronte non lo so un campo più largo di centristi che guarda alle politiche al metodo di Draghi non lo so adesso in generale e che potrebbe essere l'alleato poi vediamo come in che forme del partito democratico al posto del movimento 5 stelle guarda si è formato è un parolone diciamo che c'è un'area si sta formando si no volevo dire che questa caduta quello che è successo ha interrotto un percorso che si stava formando che era quello dell'eredità di Draghi di un'area Draghi che tra un po' di mesi si sarebbe in modo ordinato presentata per comunque continuare il lavoro di Draghi che la mia idea è non abbia alcuna intenzione di scendere in politica intesa come candidature come guida di un campo questo percorso si è interrotto bruscamente e lascia dei cocci lascia sicuramente un'eredità ma dei cocci anche perché l'agenda Draghi se la porta avanti Draghi è un discorso se la portano avanti gli altri devono avere un minimo di titolo di credibilità e di armonia e questo al momento la parola armonia mi pare la più non c'è c'è però il fatto io questo lo credo che non voglio dire che siamo come nel 94 perché non è così però c'è uno scompaginamento c'è c'è la fine dei grillini i 5 Stelle avevano il 30 e passa per cento non ce l'hanno quanto andrà nell'astensionismo non lo sappiamo però diciamo la sinistra si sta profondamente ristrutturando e il centro che in Italia non c'è mai stato perché poi non ha mai superato l'8% dell'UDC che comunque era tanto anche con Monti insomma diciamo sta cercando una casa monti allora mi pare adesso voglio sentire Massimiliano parlare di una cosa le elezioni si giocheranno diciamo tra i due fronti contrapposti sovranisti mettiamola così per capirci e dall'altra parte euro atlantisti e draghiani è questa la competizione che ci sarà sì questa sarà sicuramente una delle issue e delle divisioni delle fratture fondamentali su cui si giocherà la campagna elettorale come dicevo prima Federica Fantozzi c'è uno scompaginamento in corso che appunto era collegato alla figura di Mario Draghi ben al di là del suo totalmente assente coinvolgimento diretto nell'arena politica e che rimandava ad una serie di trasformazioni di cui lui era stato l'innesco un po' che la coesione delle coalizioni delle oggi dell'attualmente ex coalizioni che stanno saltando era già debole e fragile prima ed ecco che la figura di Draghi ha fatto in qualche modo da cartina di tornasole per l'esplosione delle contraddizioni l'immersione dei paradossi che le caratterizzavano e questo naturalmente non è un fenomeno nuovo si parlava del 94 nel senso che dal 94 che il nostro sistema politico che ieri voglio ricordare l'uscita annunziata ha definito fallito c'è anche un fallimento e un'eutanasia di un ceto politico e di un notabilato parlamentare dopo la giornata di mercoledì ecco questa trasformazione che in essere dal 94 non ha ancora portato alla riconfigurazione dell'offerta politica ovvero il nostro sistema politico non si è davvero definitivamente ristrutturato e oggi siamo in un altro momento di accelerazione di queste fasi di transizione è chiaro che quell'area centrista di cui si parla che si può riconoscere nell'area Draghi aveva bisogno di tempo per smussare gli angoli per trovare una leadership unificatrice e tempo non ce l'ha proprio adesso il tempo non ce l'ha proprio e infatti nella campagna elettorale noi vedremo riproporsi quello che in qualche modo è anche un riflesso pavloviano cioè sarà una campagna elettorale contro dei sovranisti contro gli europeisti e gli atlantisti e dell'altra area che deve ancora formarsi che è in un momento diciamo molto altamente problematico come sentivamo anche dalle parole di letta seppure naturalmente anche egli molto attento a smussare gli angoli dovrà necessariamente chiedere una coerenza derivante dal fatto di essere contro i sovranisti e in questo caso usiamo populisti con un'accezione precisa per ritornare alle parole del senatore Malani intesa in questo caso in senso negativo quindi vedremo anche per la brevità e l'accelerazione della campagna qualcosa di estremamente conflittuale di estremamente duro di estremamente diciamo pesante che non serve al percorso ordinato di cui questo paese in emergenza avrebbe bisogno Allora vado a Andrea Cangini e ricorro al giornalista che è in te per due domande quando si parla di questo fronte sappiamo quali sono ci sono molti attori Calenda Renzi Di Maio la Carfagna insomma chi più ne ha più ne metta Toti il governatore della Liguria e via dicendo però si beccano di brutto mettiamola così Calenda ieri ha detto che le dichiarazioni di Di Maio erano improvvide e pericolose per l'Italia e dimostrano l'inadeguatezza appunto del ministro degli esteri che aveva detto Di Maio aveva detto non credo salveremo il PNRR e vogliamo evitare l'esercizio provvisorio questo per dire che appunto il tempo poi è pochissimo se intanto dal tuo punto di vista nascerà una qualcosa quello che Calenda chiama il fronte repubblicano e come eventualmente tutto questo si concretizzerà in un simbolo delle liste alle elezioni io credo che l'analisi che è stata appena fatta da Federica Fantozzi e da Panorari sia corretta nel senso che siamo con tutta evidenza alla fine di un ciclo politico ma non da oggi già lo eravamo è esplosa la bolla grillina è finita la seconda repubblica è entrato in crisi il sistema politico ma non da oggi è entrato in crisi quando è stato necessario da parte di tutti i partiti e delle istituzioni chiamare a salvare letteralmente il paese una personalità non politica come Mario Draghi cosa che è sempre successa nella storia repubblicana ogni volta che una crisi globale complessa ha investito il paese perché? perché non c'è un certo politico sufficientemente attrezzato e perché soprattutto non abbiamo mai fatto quelle riforme istituzionali che mettessero in grado un governo di governare davvero quindi siamo alla fine di un ciclo politico all'anno zero della politica tutti i partiti sono alle prese con la ridefinizione della propria identità c'è un caos identitario gravissimo io credo che la cultura politica sia fondamentale però supponga anche un'etica politica senza cultura senza etica politica non si va da nessuna si vince forse ma poi si perde subito cioè si vince ma non si è capace di governare prendi molti consensi e così come velocemente li hai presi velocemente li perdi quindi insomma è inutile e siamo nel pieno di un caos geopolitico che è decisivo in questa fase è finito un ordine globale come se il muro di Berlino fosse caduto ieri non è caduto ieri ma gli effetti sono arrivati oggi e si deve ridefinire un ordine globale che ancora non si sta definendo con una guerra in Minen anzi con una guerra già che ha toccato il territorio europeo cosa inedita nella storia di fronte a tutto questo si costruiscono nuove offerte politiche nuove identità politiche per affrontare una fase che è una fase nuova completamente nuova e farlo usando torno sempre al punto ma per me è decisivo non si può farlo abusando di demagogia è troppo delicata questa fase ciascuno si deve assumere la responsabilità di dire la verità a se stesso in primo luogo e al paese e l'interlocutore deve essere il ceto medio perché se non si risana il dramma economico e sociale nella parte centrale della nazione che è quella che più sta soffrendo da anni sta soffrendo si polarizza il dibattito politico governano emergono i scialtroni emergono gli illusionisti emergono i maghi quelli gli incantatori di serpenti allora facciamo così poi ho una domanda supplementare devo sentire il senatore Malan è arrivato però parlo sotto corona davanti al quale è tutto tace e soprattutto portaci un po' di fresco ma credo che è una pia illusione questa o no? sì in realtà sì riuscire a far tacere non sarebbe male come capacità allora nuvole niente al momento se ne sta formando qualcuna sulle zone alpine ma sono quelle del pomeriggio che vediamo se oggi danno qualche debole pioggia perché su quello ci possiamo solo su quello possiamo contare vediamo la previsione per la giornata di oggi e troviamo qualche fenomeno in effetti sul Piemonte settentrionale sulla Liguria di Ponente il grigio di qualche nuvola anche sulla sulla Lombardia per il resto assolutamente nulla quindi non ci sono grosse speranze domani però come avviene ogni due o tre giorni su una specie di ciclicità abbiamo una discreta instabilità pomeridiana che prende ancora la Liguria di Ponente poi il Piemonte l'Alta Lombardia il Trentino Alto Adige cioè tutta la parte alpina con dei fenomeni che localmente potrebbero essere intensi quindi anche qualche temporale appena si arriva in pianura ovviamente scompare tutto sull'Appennino meridionale una traccia così come è successo nei giorni scorsi forse qualche nuvola forse qualche debole pioggia è pochissima cosa ma insomma rispetto al sole totale diciamo è già qualcosa domenica questa instabilità scompare restano debolissime tracce quindi rientriamo nella stabilità totale che in questo caso non è affatto positiva come dicevi e come purtroppo è all'orizzonte diciamo ragionevole non ci sono cambiamenti per quello che riguarda le temperature abbiamo sempre questa speranza un pochino più in là anche in studio non ci sono grandi speranze che cambino le temperature grazie a Paolo Sottocorona torniamo tra pochissimi minuti riprendiamo i discorsi diciamo che stiamo facendo vi mostriamo però anche alcune dei provvedimenti delle misure che insomma rischiano di essere vanificate da questa crisi nonostante lo dicevamo all'inizio gli affari correnti di questo governo insomma abbiano un'accezione più ampia in questa fase tra poco le riforme della giustizia della concorrenza del fisco degli appalti sono un passo avanti essenziale per modernizzare l'Italia sarà in aula lunedì alla Camera l'IDL concorrenza dal cui testo verrà però tolto l'articolo 10 quello relativo ai taxi rivelatosi nel tempo quanto mai divisivo è la rotta tracciata per tentare di realizzare le misure più urgenti soprattutto il rapporto a Bruxelles in vista dell'avvicinamento alle urne del dopo estate restano ad ogni modo aperti numerosi capitoli destinati a pesare e non poco su imprese e famiglie italiane scadenze sia a medio e lungo termine ma nessuna di fatto trascurabile calendario alla mano le scadenze parlano chiaro fotografando in primis in ordine temporale la misura del bonus 200 euro che potrebbe finire a navigare da subito in cattivissime acque se a luglio è stata destinata a 31 milioni di italiani professionisti e autonomi con partita IVA potrebbero non vedersela mai corrispondere dal momento che si attendono ancora i decreti attuativi addio evidentemente di conseguenza ad una versione bis e tris al vaglio per coloro che l'assegno l'hanno ricevuto o comunque questo mese lo riceveranno mentre negli affari correnti potrebbe rientrare col decreto aiuti bis la proroga sul taglio delle accise sulla benzina ma la verità è che alcuni interventi ipotizzati nella manovra rischiano un duro contraccolpo dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni a fine anno scade quota 102 e un'unica certezza c'è ma è una scadenza ossia che entro il 15 di ottobre il documento programmatico di bilancio va inviato all'Unione Europea c'è da capire però a questo punto a rediggerlo chi sia e non è tutto potrebbe inabissarsi prima ancora di aver visto la luce e l'opzione di una legge sull'eco compenso comeppure potrebbero non superare l'estate le regole relative al lavoro agile e smart working prorogate per effetto dell'emergenza covid rispettivamente fino a luglio e ad agosto ciò non toglie che con la risalita dei contagi e la riapertura delle scuole inevitabilmente andrebbero se non rimodulate almeno discusse e potremmo aggiungere anzi occorre farlo un passaggio ulteriore sul capitolo relativo al PNRR l'esecutivo stava infatti programmando ulteriori misure necessarie a incassare la terza trancia di aiuti 21 miliardi disponibili a patto di condurre a meta riforme complesse come quella del fisco ad esempio e per la cui realizzazione i tempi a questo punto potrebbero rivelarsi stretti a vacillare come è chiaro pure la proposta dello Iuscole la nuova legge di cittadinanza in discussione in Parlamento che riguarderebbe ben 280 mila ragazzi il tutto in una congiuntura assai complessa con l'Ox e l'organizzazione mondiale per la cooperazione e lo sviluppo economico che certifica una perdita di crescita globale con una contrazione economica forte nell'eurozona dove le economie sono alle prese con alti livelli di inflazione bassa fiducia dei consumatori e mercati azionari in discesa ecco questo di Giada Valdanini è un quadro insomma molto sintetico di quello che si potrà e non si potrà fare per quanto riguarda il governo che resta in carica il governo Draghi ci arrivo subito la domanda diciamo supplementare da fare ad Andrea Caggini che è questa facendo diciamo alla luce delle considerazioni che tu facevi anche del periodo che stiamo attraversando complicatissimo e pensando alle prossime elezioni sì abbiamo parlato di una nuova offerta probabilmente politica quest'area Draghi eccetera però la domanda è questa intanto non pensi che anche perché c'è pochissimo tempo saranno premiate diciamo i due poli diciamo e l'area centrista dragiana rischia invece di prendere molti pochi consensi e legata a questa domanda è la seconda domanda credi proprio perché quello che è successo è sotto gli occhi di tutti molti sono rimasti sgomenti poi a seconda di come ognuno la pensi c'è chi è stato contento e chi meno pensi che crescerà l'astenzionismo o invece queste elezioni richiameranno anche quegli italiani che sono rimasti a casa recentemente io temo che l'astenzionismo crescerà sinceramente spero di sbagliarmi perché mi aspetto una campagna elettorale orribile fatta tutta sulla appunto come giustamente si diceva prima sui no sulla demonizzazione sulle paure mai come in questa fase io vorrei che ci fosse credo che una quota importantissima dell'elettorato abbia i miei stessi desideri che ci fosse invece un'offerta politica seria responsabile propositiva e costruttiva non si tratta solo di dire chi è stato responsabile di cosa fino ad oggi cosa importante decisiva e dirimente perché non possiamo far finta che non sia successa una cosa enorme l'altro giorno con la sfiducia che il Movimento 5 Stelle la lega e forse Italia hanno votato a Draghi cosa enorme con conseguenze gravi ma non possiamo fermarci lì dobbiamo guardare avanti insomma la cosa importante sarà parlare al paese e offrire soluzioni credibili realistiche e nessuno potrà dire votate me perché domani tutto cambierà tutti dovrebbero dire votate me perché farò questo questo quest'altra cosa e nel tempo se saremo bravi come speriamo di essere se avremo una classe politica non soltanto di star dei social ma di gente che ha studiato che magari di qualcosa si intende oltre che di politica che è una cosa rispettabile non sono contro il professionismo e la politica ma serve anche una qualche competenza e soprattutto serve un'etica adesso vado da Malan che cosa pensi a proposito di questa domanda che facevo ad Andrea Cangini cioè che margine potenziale hanno dal punto di vista degli elettori quelli che si riconoscono in quest'area draghiana Draghi perché magari l'elettore va lì vede il centrodestra diciamo con i problemi che abbiamo parlato ma unito che si presenta lì dall'altra parte non sappiamo se il PD in solitudine o con chi gli sarà accanto e dice beh ma piuttosto che votare voto uno di questi due schieramenti sì sì ma il rischio c'è io onestamente non so dire perché è un campo ancora talmente nebuloso ma c'è poco tempo però per definire tutto questo c'è poco tempo ma sono quelli che rischiano di pagare di più questo poco tempo e quindi non so dire se l'assenzionismo sarà alto ma se crescerà o se ci sarà fiducia in questo campo penso che sia interessante sia interessante vedere però come in questo poco tempo è vero sarà una campagna elettorale dura contro come diceva il professor Panarari e penso al presidente della Repubblica che ha appena auspicato il contrario dicendo nel superiore interesse del paese però sarà interessante sarà disatteso questa sorta di invito di appello di monito del capo dello Stato l'unica certezza come tanti altri sarà disatteso però sarà interessante perché ci sarà appunto un PD che dovrà ristrutturarsi in qualche modo in un'alleanza in cui si era cullato e anche il centrodestra sarà interessante perché mi perdonerà il senatore Malani io non penso che sia coeso anche se andrà insieme e Rebus Sixantibus dovrebbe vincere ma per dei motivi oggettivi c'è una reale competizione per la prima volta e io vedo una diciamo da un lato Fratelli d'Italia e un tentativo che si è già visto insomma comunque di stare insieme di fare fronte comune di Lega e Forza Italia per contrastare numericamente questa forza e invece sono io la penso come il senatore Malani in questo penso che la regola del centrodestra è sempre stata che chi ha un voto in più esprime il candidato premier e anche questa sarà una partita interessante perché è difficile poi cambiare le regole in corsa cioè è una partita che questa è un po' la partita di Giorgia Meloni quindi vedere come se la giocherà rispetto agli elettori ma anche rispetto agli alleati sarà forse una delle novità allora senatore Malani diciamo che la campagna elettorale diciamo cruciale o maggiormente intensa e decisiva sarà diciamo le prime quindicina di settembre tanto per capirci più o meno è un po' sempre così a maggior ragione la stagione estiva mi dice proprio una cosa molto secca molto chiara perché siccome tra poco più di due mesi si vota mi dice tre slogan tre punti salienti del vostro programma elettorale quali sono? prima allora non sono io non sono io che decido gli slogan slogan per dire dei punti però la cosa che noi abbiamo posto fin dall'inizio è puntare sulla produttività del paese la riduzione del cuneo fiscale per puntare a lanciare la produttività perché se c'è produttività poi ci possono essere le risorse per tante altre cose per l'assistenza per la sanità per tutto il resto se non rilanciamo la nostra produttività non si va ma la flat tax resta un tema questo è un aspetto che va studiato perché è un aspetto tecnico però appunto puntare sulla produttività per cui ridurre aumentare le possibilità di assumere le persone anziché pagare le persone a far niente facilitare coloro che vogliono pagare per produrre in secondo luogo lavorare moltissimo per una cosa a costo zero perché ridurre il cuneo fiscale ha il suo costo a costo zero è ridurre gli ostacoli che lo Stato le norme le vari livelli di governo pongono a chi vuole produrre a chi vuole lanciare una cosa però me la vuol dire la sicurezza naturalmente la sicurezza è vero che il barcone non arriva davanti a casa tua ma i problemi sociali noi abbiamo già problemi sociali più che sufficienti con quello che c'è già in Italia se continuano ad arrivare decine di migliaia di persone che inevitabilmente sono senza alcuna risorsa sono vengono da luoghi molto diversi la situazione non può essere migliorata specialmente nelle periferie si sente nelle ZTL si sente no no ma io scuso su questo le chiedo il reddito di cittadinanza se è andato al governo viene eliminato? mi sembra chiaro l'abbiamo ecco così ci siamo capiti su alcuni punti mi sembra chiaro la chiarezza mai come in questo momento bisogna trovare è d'obbligo nei confronti degli italiani bisogna trovare altri modi innanzitutto indirizzando verso il lavoro altri modi per venire incontro alle difficoltà delle persone bisogna venire incontro alle famiglie l'assegno unico universale per i figli bellissimo titolo purtroppo avendo troppo poche risorse si è rivelato per molte famiglie specialmente quelle numerose cioè quelle che devono essere più oggetto di questo aiuto una riduzione addirittura del pochissimo che si dava prima queste sono queste sono cose io volevo dire un piccolo appunto prima è stato parlato di atlantismo e non atlantismo allora che la coalizione intorno al PD quale che sarà si faccia l'atlantista contro gli anti-atlantisti mi sembra veramente paradossale perché definire anti-atlantisti noi mi sembra veramente paradossale e anche quell'atlantismo per carità che quando c'è un presidente degli Stati Uniti del partito democratico sono grandi atlantisti il partito democratico quando non è del partito democratico invece è tutta un'altra cosa allora essere atlantisti per noi sotto la presidenza Biden non è facile però lo siamo perché crediamo nella strategicità di quell'alleanza non la strategicità per il consenso del nostro partito ma per la posizione del nostro paese allora che loro siano gli atlantisti contro dei presunti non atlantisti perché se sei contro è francamente paradossale ecco ricordiamo bene come erano atlantisti basta andare pochi anni fa o 15 anni fa o 20 anni fa allora il flash finale con Panadale lo faccio dopo aver sentito però Francesco Magnani pronto per la reghettira ciao Francesco ciao Andrea cosa significa votare a settembre cosa comporterà per i partiti preparare le liste in pieno agosto e Draghi nell'esercizio dei disbrighi ordinari potrà fare anche la finanziaria sono tutti i dubbi che affronteremo oggi con i nostri ospiti di grandissimo livello Giovanna Vitale firma di Repubblica Roberta Pinotti e Ignazio Larussa PD Fratelli d'Italia entrambi accomunati da un passato comune sono stati ministri della difesa Claudio Velardi Luca Sommi poi vi porteremo nelle spiagge e vi porteremo nelle spiagge in taxi visto che le licenze di tassisti e le concessioni balneari sono state una delle almeno casus belli di questa crisi con noi Carelli Emilio Fabio Dragoni Giuliano Cazzola ci viene a trovare Augusto Eugenio Gianni il presidente della regione toscana perché affronteremo anche il tema del rigassificatore di Piombino caduto Draghi Piombino avrà la sua rivincita senza quella nave che considerano mostruosa e poi infine ci viene a trovare il professor Mario Monti con lui ragioneremo se davvero è finita la stagione dei governi tecnici ma anche su che cosa comporta questo nuovo scudo antispread messo a punto ieri dalla Banca Centrale Europea restate con noi Andrea a te grazie due tweet finali il rigassificatore di Piombino il sindaco del vostro partito sì o no ne va della sicurezza nazionale ha detto Draghi l'altro giorno sì o no guardi devo parlare con qualcuno che segue il problema a Piombino onestamente io non le so apprezzo la sua sincerità non sono sindaco di Piombino se posso dire sul rigassificatore di Piombino Fratelli Italia ha la stessa posizione che il Movimento 5 Stelle ha sull'inceneritore di Roma tale e quale va bene vediamo ce ne siamo già occupati ce ne occuperemo in seguito Massimiliano proprio un tweet a chiusura di tutto ma chiunque vincerà queste elezioni non si trova davanti una strada piuttosto segnata tra PNRR alleanze europee euro-atlantiche o no? si trova una strada rispetto alla quale il Presidente della Repubblica Mattarella le istituzioni europee hanno cercato di definire un perimetro in questo caso nell'interesse letteralmente del Paese tanto dal punto di vista dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie che ricordiamo il lavoro ultimo di Draghi dell'approvvigionamento delle risorse energetiche che sarà una delle grandi questioni come sappiamo tutti dell'autunno caldo che rischia però anche di essere freddo dal punto di vista delle temperature proprio per la questione generale del caro energia volevo osservare giusto con un tweet dalle parole del senatore Malan emergeva un programma economico in questo caso del centro-destra che è equivalente per buona parte a quello che stava cercando di fare Draghi e allora viene naturale la domanda perché uscire dal governo questo non riguarda il senatore Malan nello specifico naturalmente che stava apparentemente all'opposizione ma il cosiddetto sì non il senatore Malan nello specifico ma il centro-destra di governo visto che questo programma diceva appunto il senatore è il programma che unifica il destra-centro in questo caso Cangini per questo se ne è andato da Forza Italia non abbiamo un esponente leghista rimandiamo la domanda dai prossimi giorni perché se metti 10 miliardi sul reddito di cittadinanza poi non ci sono più per altre cose ecco grazie senatore Malan ma il presidente Draghi su reddito di cittadinanza aveva espresso di rischio devo interrompermi devo dare la linea per intanto c'è sempre stato grazie senatore Malan grazie ad Andrea Cangini grazie a Federico Pantozzi grazie a Messina Pannatari c'è l'aria che tira ci vediamo domani grazie a tutti